La terra cruda è il più antico materiale da costruzione ed è tuttora diffusa nell'edilizia del Terzo Mondo. Le popolazioni africane continuano ad impiegarla per le murature e per gli intonaci. Il riso, invece, è la principale risorsa di cibo per più di metà della popolazione mondiale, ma la coltivazione del riso produce anche un'elevata quantità di scarti naturali. Ispirata dalla Vespa Vasaia, Wasp immagina la tecnologia 3D come un modo per dare nuova forma ai materiali locali. Questo approccio consente di ottenere costruzioni in sito a basso impatto ambientale. Dalla combinazione di riso e terra nasce Gaia. Grazie alla stampa 3D, il processo consente di limitare la quantità di cemento nelle fondazioni, pur mantenendo il rispetto dei criteri normativi. L'impiego di software di progettazione parametrica consente di articolare percorsi intrecciati all'interno della muratura per integrare gli impianti, l'isolamento termico e la ventilazione naturale. Porte e finestre sono state realizzate controllando localmente la deposizione ed inserendo appositi architravi di legno durante la costruzione. Il processo di stampa 3D ha impiegato 100 ore per un totale di 9 metri cubi di materiale e 22 chilometri di estrusione. Grazie alle miscele fornite da Rice House, Wasp ha utilizzato il riso anche per i massetti di isolamento e per gli intonaci. Certificato per essere a livello più alto di classe energetica, il progetto offre una soluzione innovativa e rappresenta una conquista nel campo della bioidilizia. È l'unione tra tecnologia additiva e materiali naturali a rendere Gaia un nuovo modello architettonico ecosostenibile, pronto per essere esportato a basso costo in tutto il mondo.